Tendo struttura Conti di Aversa la sfida è tra i padroni di casa e il cales di Mario Cipro le immagini che vediamo sono quelli di chiusura del primo tempo per un problema tecnico non lo abbiamo completamente con le immagini andiamo direttamente alla ripresa dove arriva il gol quello che decide la partita capolavoro con questa azione personale e la rete targata Crispino va ancora vicino al gol l'Aversa con questa doppia chance il capitano che riesce a trovare il tapine vincente poi tre conclusioni sul calcio piazzato per Ruozzo che non riesce a scardinare la porta avversaria difesa da uno straordinario Terracciano che sarà monumentale tra i pali ancora Aversa che prova venire avanti e qui arriva il doppio cartellino giallo l'espulsione per Pablo Benza in subietà numerica non ne approfitta però la Aversa per chiudere la partita qui la palla si stampa sul palo esterno con questa iniziativa per Virgilio poi ancora il tentativo del Cales che va vicino al gol del pareggio si oppone sempre Terracciano tra i pali con questa accusione la distanza che va all'ambile la traversa con la deviazione però sempre di Terracciano con l'Aversa che sulle ripartenze non riesce a realizzare il gol del 2 a 0 di nuovo Cales pericoloso con la parata sempre di Terracciano insiste il Cales la sfera finisce sull'esterno della rete poi la ripartenza della Aversa con il salvataggio in estremis dell'estremo difensore zona poi di nuovo il Cales pericoloso con questa conclusione schierando il portico di movimento la Aversa non riesce a trovare il gol della distanza tiro libero fallito dal Cales con Ruozzo l'ultima chance con la parata di Terracciano la Aversa porta a casa una vittoria importantissima 1 a 0 grazie al gol di Crispino nella ripresa grazie a tutti grazie a tutti